Ogni emozione nasce da motivazioni contingenti, ma in certi casi si lega a una vicenda storica, questa più di altre, perché c'è un rapporto con la storia, anche se si parte da una vicenda concreta della cronaca, mi viene da dire anche della cronaca nera di questi giorni. E il rapporto è con la storia di un Paese che ha attraversato una guerra per un profondissimo regime change, avvenuto oltre 70 anni fa. Una guerra che era insieme una guerra civile, una guerra patriotica di liberazione, una guerra internazionale, era in piena Seconda Guerra Mondiale, e anche una guerra di classe, una guerra sociale, in cui si ridefinivano i rapporti fra i ceti a lungo inquadrati nella vicenda storica del fascismo italiano. Una volta tramontato quel regime per effetto della guerra, degli sconvolgimenti enormi che comportò, erano inevitabili le scorie di problemi irrisolti che si trascinavano anche nel nuovo regime democratico creato nella temperie di quegli anni. Ed è inevitabile in questi casi che ci siano scorie di ogni tipo, questioni che richiedono lungimiranza politica, questioni che invece sono oggetto di scontro duraturo, come una braccia accesa. Si pone un problema di continuità e discontinuità. I padri costituenti come lo hanno risolto? Con l'articolo dodicesimo della disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta la ricostituzione sotto qualsiasi forma del partito nazionale fascista. Attenzione a questi due corni del dilemma. Sotto qualsiasi forma significa attenzione agli elementi cangianti che possono mascherare un ritorno. Ma c'è anche un riferimento storico, ben preciso e ancorato, il partito nazionale fascista. Cioè un'entità che fu profondamente sconfitta, distrutta, annichilita, sterminata in certi casi, perché le guerre hanno questa caratteristica. E ciò nonostante c'era una prudenza dei padri costituenti che vedevano una vicinanza storica immediata per dire evitiamo che ci sia una qualsiasi continuità con quella epoca. Un elemento di prudenza che si accompagnava però ad altri atti. Togliatti, Ministro della Giustizia, che stabilisce un'amnistia generale che consente ad esempio a molti funzionari dello Stato precedente, ma lo Stato ha una sua continuità, di continuare a fare i magistrati, i funzionari pubblici, i direttori di giornali anche nell'Italia democratica. Quindi molti fascisti diventarono antifascisti nel fuoco della guerra e diventarono persino partigiani e un giorno diventarono anche presidenti della Repubblica. Fascisti meno militanti si trovavano nelle istituzioni, cambiavano casacca, trovavano un modus vivendi diverso con le istituzioni. Fascisti che costruiscono un partito nell'alveo della Costituzione, un partito di ispirazione fascista, il Movimento Sociale Italiano, eppure riconoscibilmente dentro la Costituzione. Questo apriva sempre un dibattito nella storia della Repubblica, ma se questi sono fascisti andranno disciolti, si chiamano Movimento Sociale, c'è una continuità con Repubblica Sociale, però si è fatta la scelta lungimirante di costruire una nuova vita politica in cui c'era posto per una parte significativa della società italiana. Io mi ricordo che nel 1992, ad esempio, il Movimento Sociale Italiano, nel pieno delle discussioni sul Presidente della Repubblica, aveva proposto di eleggere Paolo Borsellino, che era uno che aveva sempre votato in quell'alveo. Io penso che se fosse stato votato avremmo vissuto una storia diversa in Italia, per dire come può essere complicata la vicenda del rapporto delle persone con una storia complicata come quella italiana. E poi c'è un altro genere di fascismo italiano, che è quello alla base dell'esperienza di Forza Nuova, cioè fascisti reclutati dai servizi occidentali in funzione anticomunista. C'è sempre stato questo doppio fondo dello Stato, che alimentava gli opposti estremismi, aveva bisogno di masse di manovra, organizzava sotto traccia delle organizzazioni fasciste che inquinavano profondamente le manifestazioni, il dibattito politico, si rendevano complici di atti di terrorismo e avevano una qualche protezione legale, venivano inquadrate nelle armate di Gladio, se vogliamo ricordare pienamente la storia. E in questa storia c'è anche questo pezzo marginale e terminale di Forza Nuova, che nessuno sottovaluta. L'assalto alla CGL anche per la sua portata simbolica rispetto a una Camera del Lavoro e per tutto quello che evocava era qualcosa che doveva suscitare una reazione molto forte da parte di tutti quanti, di tutti noi, anche un orrore, uno scandalo per un oltraggio. Ma allo stesso tempo è riconoscibile anche qui quella filigrana che continua nello Stato italiano di sottili complicità, di pezzi di apparati, per cui la giustificazione data dalla Ministra Lamorgese del poliziotto che dava una controllatina da meccanico al moto ondulatorio di quel mezzo è una scusa risibile ed è davvero oltraggiosa nei confronti del Parlamento. E su questo si è montata anche una campagna antifascista. Viva l'antifascismo! Noi siamo antifascisti, non siamo antifa, cioè non siamo la caricatura dell'antifascismo. Però è stata una campagna, come dire, un po' turbo, un po' esagerata nelle sue funzioni, perché individuava un pericolo che è stato gonfiato ad arte anche in vista delle scadenze elettorali, sottovalutando invece l'elemento di inquinamento profondo che c'è stato di quella manifestazione con un evento che non doveva accadere, che invece è accaduto, e con il Ministro dell'Interno che lo ha sostanzialmente coperto, con una patina che però si gratta facilmente, se guardiamo le immagini che tutti hanno potuto vedere, non attraverso le televisioni, perché abbiamo anche un problema di informazione. Abbiamo quindi un problema storico di come inquadrare il rapporto con questo mondo estremista che ripropone qualcosa di pericoloso per la storia repubblicana. Non dobbiamo fare atti generici, bisogna seguire la via della magistratura e perciò la nostra mozione si affida a seguire in modo serio la legge, quello che dice, senza fare roboanti dichiarazioni che rischiano di estendere a personalità politiche che non centrano nulla con il terrorismo o con le forme di inquinamento della vita democratica o con le lesioni, con la violenza, un potenziale di scioglimento e di decisioni da parte del Governo che non deve esistere. Nell'ambito della democrazia bisogna trovare quelle vie inclusive che sono state trovate per primi da parte dei padri costituenti, che hanno fatto un lavoro intelligente su questo, che ci rimane come un'eredità preziosa. Quindi la nostra mozione vuole fare quello che si fa dopo il regime change, cioè verità e riconciliazione. Raccontiamo una verità su Forza Nuova e diciamo delle cose che nelle altre mozioni non abbiamo visto e poniamo quindi un problema molto serio anche di ordine pubblico su Forza Nuova. Allo stesso tempo affidiamo in modo ragionevole agli strumenti dati dalla legge tutte le decisioni che si possono prendere nei confronti di un'organizzazione violenta, perché è inutile evocare un antifascismo a volte di facciata quando invece abbondano atti autoritari che non si presentano come riconoscibili o immediatamente riconoscibili. Grazie.